Sarà eseguita domani all'Istituto di Medicina Legane di Verona l'autopsia sul corpo della piccola Sofia Zago, la bambina di 4 anni morta di malaria cerebrale all'ospedale di Brescia, dove era arrivata sabato mattina in coma dall'ospedale di Trento. Anche la procura di Brescia, come quella trentina, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che conferirà successivamente in un'unica inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. L'inchiesta aperta contro i gnoti d'ufficio con questa accusa punta ad accertare se siano stati eseguiti protocolli prescritti per le cure, per ricostruire con precisione le tappe cliniche che hanno portato alla morte della bimba. Era stata ricoverata prima per diabete a Portogruaro e a Trento, poi era tornata in quest'ultimo ospedale dove una prima volta le era stata diagnosticata una faringite e una seconda la malaria, fatale poco tempo dopo il trasferimento a Brescia. Altro punto da verificare se gli elementi che è possibile raccogliere lo consentiranno è come sia avvenuto il contagio, quindi se attraverso strumenti utilizzati per le cure o a causa della puntura di una zanzara. Titolare del fascicolo a Trento su cui sta lavorando il Nassa dei Carabinieri è il procuratore capo Marco Gallina che è in attesa tra l'altro di acquisire dall'ospedale di Portogruaro in provincia di Venezia la documentazione per i giorni di ricovero della piccola in quella struttura. Era infatti stata portata lì quando si era sentita male durante una vacanza in campeggio a Bibione. Intanto non risultano tracce di zanzare nelle quattro trappole posizionate lunedieri tirate ieri dall'azienda sanitaria nel reparto di pediatria dell'ospedale di Trento dove era stata ricoverata la bimba e dove erano ricoverate altre due bambine di ritorno dal Burkina Faso curate e guarite dalla malaria. Oltre alle due bambine africane in pediatria all'ospedale di Trento c'erano anche la mamma e un fratello più grande adolescente ricoverati invece nel riparto degli adulti. Entrambi come le bimbe piccole sono guarite e sono stati dimessi. Il parassita che invece è stato fatale per Sofia è il Plasmodium falciparum. Resta da verificare se il ceppo sia o meno lo stesso della famiglia del Burkina Faso. Di questo si sta occupando l'Istituto Superiore di Sanità. Se fosse lo stesso allora il contagio della bambina sarebbe sicuramente avvenuto in ospedale ma resterebbe da capire in che modo lo afferma il vicepresidente della società italiana di malattie infettive tropicali Massimo Galli. Se il ceppo risultasse invece differente allora il contagio sarebbe avvenuto in un contesto diverso. Intanto è stata conclusa l'operazione di disinfestazione nel reparto pediatria dell'ospedale di Trento.